La parola d'ordine è il gioco, in un momento di crisi, di pandemia, di guerra, dare un po' di serenità e di prospettive future a chi verrà a Guardia Grele, credo che sia un nostro dovere in assoluto. Ci sarà domenica 31 luglio alle ore 18 il taglio del nastro della 52esima edizione della mostra dell'artigianato artistico di Guardia Grele. Tante le opere dei maestri artigiani, non solo di Guardia Grele ma di tutto il comprensorio della Maiella. La mostra potrà essere visitata per tutto il mese di agosto con orari di apertura sia al mattino che al pomeriggio. È una mostra a mercato, sicuramente avremo anche un bookshop, però l'obiettivo nostro è quello di far vedere le bellezze degli artigiani, quello che riescono a produrre e di far andare i tanti visitatori che arriveranno nelle botteghe degli artigiani. Si accettano i riflettori su tutto quello che è il mondo dell'artigianato di qualità regionale, è un momento sicuramente culturale, artistico ma anche turistico importante perché le migliaia di visitatori che si recheranno presso la mostra avranno l'opportunità di passare una giornata visitando i musei di Guardia Grele, visitando lo splendido borgo di Guardia Grele e quindi un momento anche di promozione turistica importante. Il momento difficile per l'artigianato, per gli imprenditori arriverà un messaggio, una speranza per questi lavoratori perché si possa dare un aiuto concreto. Devo dire che i nostri artigiani sono degli eroi quando continuano a tenere aperte le loro botteghe, sicuramente presto usciremo con un bando tutto dedicato a loro, stiamo ancora studiando se sarà un bando di ristoro a Covid o un momento di ripartenza per dare la possibilità a loro di innovarsi con tecnologie nuove. Da questo evento la sfida affinché la presentosa, simbolo dell'Abruzzo, possa diventare un patrimonio dell'UNESCO? Sicuramente sì, crediamo che la presentosa e non solo la presentosa ma tutto l'artigianato artistico abruzzese possa diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO.